Nuovo coordinatore provinciale eletto di Forza Italia della provincia di Varese, Simone Blomini. È il momento per rilanciare l'azione e l'attività politica di Forza Italia sul territorio. Noi siamo conviti per fare un buon lavoro e grazie all'entusiasmo di oggi, la partecipazione, la presenza di tanti amici, amministratori locali, militanti, iscritti e dirigenti del partito. Sono sicuri che arriveremo pronti e preparati le prossime scelte. A partire dalle elezioni amministrative che ci saranno in quasi 80 comuni della provincia di Varese, dove insieme ai nostri alleati di centro-destra cercheremo le soluzioni migliori per dare dei buon governi alle amministrazioni locali e alle nostre comunità. E poi le elezioni europee, dove ricordiamo che Forza Italia è l'unico voto utile. Forza Italia rappresenta i valori del partito popolare europeo, senza il quale non si dovrebbero. Quindi se vogliamo essere protagonisti in Europa, dobbiamo votare Forza Italia per far sì che tutti i dossier importanti che ci sono all'europeo, dalle crisi internazionali, alla posizione ecologica, all'economia, ci vedano protagonisti. E' importantissimo, ripartiamo da mille iscritti qui in provincia di Varese, grande partecipazione, oggi centinaia di militanti. Io credo che noi possiamo occupare un grande spazio politico, quello che c'è tra la Sline e la Meloni, cioè l'area moderata. La rappresentiamo noi che facciamo parte in Europa del partito popolare europeo.